Bella ragazzi, oggi c'è il Lille! Oggi c'è venuta una splendida idea di fare le bolle Le bolle... le bolle... le bolle... le bolle a bagno Dove possiamo metterle la sua presa all'interno? E questo è per un nuovo salamato, quindi non ci offende Ok, dammi, guardatele Ne dobbiamo mettere solo tre! Sì, ah! Cosa? Ci possiamo mettere, credo anche, i figurini Questi che sono? Ora lo scorreremo, apriamolo! Ok ragazzi, abbiamo aperto la scatola E gli ingredienti sono Acido citrico Il garabonato di sodio I zuccherini che metteremo E questi come si chiamano? Dopo le sorprese C'è un'altra che la faremo Che metteremo all'interno C'è un'altra sorpresa che la faremo alla Dopo Poi questi che sono avanzati, che faremo dopo Ok Domani un altro video! Vai, iniziamo con questo Eh, come si ha? Ah, ecco il po' Ok ragazzi, abbiamo tagliato tutto E ora mettiamo questo Quanto? Tutto Tutto L'ho già messo? Mescoliamo un po' per vedere la consistenza Facciamo E spandiamo E ora mettiamo l'acqua L'acqua è la vostra Abbiamo la pipetta Oddio Ovviamente la siringa Vai, la mettiamo anche No, la vasce Eh Tu aspetta What? Io si sta facciando ancora più liscia Ecco Tutto Ecco, li mettiamo qua e mescoliamo Mescola solo da un lato Perché dopo Quando mi avevo messo l'acido cintrico Solo da un lato, sì Quando mi avevo messo l'acido cintrico Quando mi avevo messo l'acido cintrico Quando mi avevo messo l'acido cintrico Ora dovremmo fare l'altro lato Questa legge mi sa di la vita Adesso è già spaccato tutto Yeah Io l'ho già spaccato Guarda Non lo so Ma ora risolve il problema Vuol dire come Ah, è molto comodo No Ah, è molto comodo Ora dobbiamo mettere l'acido cintrico No, lei deve aspettare Quando lo dico io Ok Allora, se no ho mescolato tutto Non devi dimenticare di una cosa Vabbè, ora aggiungiamola Cintrico Ho proprio tutto Yes Yes Dei Eh È troppo Mescolato da un altro lato Da questo? Sì Finché non mi assicurano Tutti i sassoni I sassoni Il topolo È l'acido Ma secondo te l'acido è avvelenato? No Come fa? Dove essere avvelenato Se avvelenato è così Dovrei Per fare un meno semplice bomba da panno Perché vuole se fa? Sì Ma mi vuole davvero bene Perché non si vedono quasi più di ramo Non so perché mi da sempre tutto Mettiamo i zuccherini Mi ha scolato tutto e mettiamo i zuccherini No qua Poi La metteva su E a te Mamma Mamma Non le metteva su Mettemelo i zuccherini La mancano No Poi le mettiamo su anche là Sì E poi Poi le mettiamo allora mi raccomando quando chiudi non devi fare niente ci vediamo fra un po' amorino fra un po' pure halloween davvero facciamo la festa da halloween io non so ancora la mia festina ti metti perché rompere da vampiro come fa perché io mi metto da vampiro fra un po' ma basta la sorpresa l'ho già messa ok ok ora questo è tuo pronto ad halloween sono tutta emozionata ora ce lo dobbiamo scampare e ce lo dobbiamo rimettere giusto è pronto vai è più liquido è più liquido non è acqua non so però il picco cosa niente sono già più avanti di te la metto più tanto no è arrivato il momento più atteso non i meno tu lo chiudi tu? no dai ho paura dai non lo fai tu please mi vuoi tanto bene mi vuoi tanto bene mi vuoi tanto bene no dai no dai non ce l'ho fatto io ho finito no 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 se non ti ci sa ragazzi cosa devo fare con mia livella che ti voglio molto di bene eh non c'è un problemino però è difficile da attaccare lo so perché c'è la soppresa che so quella è messa a tutti lì pronte ora dobbiamo aspettare due ore due ore e poi la metteremo in bagno quindi guardate ragazzi mi ha fatto qua ci sono le giocherine qua ci sono le giocherine ok quindi lasciamola qua e ci vediamo dopo ciao ci siamo le bombe da bagno si sono formate guardate ora lo andiamo a mettere in vasca seguiteci stiamo per aprire le palline uno due tre e ahhh aspetta 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 le facciamola mettere vai 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 quando arriva la sorpresa prendermela ok ok la quattro è ilenia ilenia due uno eccola 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 no questa è la tua questa è la mia ragazzi che carina che carina ragazzi c'è è velocissimo che carina c'è la tavoletta sembra la tavoletta questo è super approvato la mia tavoletta dai 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 no dov'è dov'è la sorpresa non la vedo guarda la sorpresa è bello mi squisci dovrei ti do una forse è lavata no vorrei ti do una fida se vuoi la tua sorpresa devi andare sul stacco senza chiudere gli occhi finchè non arriva due no però puoi ripirare dov'è è l'eserza no dai io non devo riuscire la mezza eccola eccola ragazzi eccola e guarda la mia guarda la mia guarda la mia guarda la mia guardatela da me la vede è qua guarda guarda sta alle manche dai aia dai che corrono questo coltello me lo porta a rogare con me guardate ragazzi ha provato questo gadget ti vedi a me però mi piaccia di più eccola facciamo una cosa se arriviamo a 200.000 mi piace la parte facciamo un video dove noi stiamo per 24 ore chiusi in bagno vabbè a 200.000 mi piace mi raccomando ok noi ci vediamo nel prossimo video e delle bombe ciao 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 ciao